Vieni, 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 oggi ti porto in un'attività particolare e ti porto in un'attività che tu potresti dire ma cosa ci fa Ferragosto o Amos in quel posto lì? Potresti dire ma i tartufi non c'entrano niente con l'estate, invece io ti dico vieni, vieni, vieni qua che ti faccio scoprire un mondo assolutamente nuovo perché siamo da Boido Tartuffi e devi sapere che Boido Tartuffi opera nel settore appunto dei tartufi da oltre 20 anni con una tartufaia semplicemente qua a Pietramarazzi. Abbiamo collaborazioni con tantissime attività locali per fornire un prodotto di eccellenza e di qualità soprattutto venire qui a Boido Tartuffi significa imparare a capire la differenza fra un tartufo e l'altro a capire quello che può essere l'accostamento fra un vino e appunto un tartufo bianco, nero quante tipologie ce ne sono perché qui a Boido Tartuffi abbiamo tutte e sette le tipologie ce le abbiamo tutto l'anno, costantemente guardate anche i prodotti che vengono fatti appunto qua presso le loro cucine ci sono salse di tutti i tipi, creme del tartufo bianco, piuttosto che creme del tartufo nero parliamo anche della pasta fatta interamente al tartufo e quindi quando entrate qui in Boido Tartuffi sentirete un profumo che è una meraviglia. Quindi ragazzi io vi invito a venire qua anche per degustare direttamente sul posto quelle che sono le loro primizie ti faccio vedere un'ultima immagine che vi lascerà sicuramente con l'acquolina in bocca e come sempre ragazzi stay tuned perché sono sempre online. Ciao Damos!